La marcia di avvicinamento all'esordio in campionato del Taranto, previsto per domenica prossima in casa contro il Matera, passa inevitabilmente dalla Coppa Italia di Lega Pro. Con la vittoria di ieri del Melfi sul Fondi per 2-1, ai Rosso-Blu basterà solo un punto nella gara di mercoledì pomeriggio in terra laziale per andare avanti in una competizione che, sebbene ricopra minore importanza rispetto al torneo di terza serie, resta sempre un banco di prova importante. La febbre per la gara contro i Lucani, che si giocherà in notturna, però cresce di ora in ora. I punti booking show sono già stati presi d'assalto sin dalle prime ore di prevendita e i più ottimisti pensano che si arrivi a 10.000 presenze. La gara col Matera ha un sapore speciale per i tifosi del Taranto. Non segna soltanto il ritorno dei Rosso-Blu tra i professionisti dopo quattro anni d'inferno trascorsi sui campi della Mariano Keller, Gelbison e Torrecuso, che, con rispetto parlando, niente hanno a che condividere con l'assore rosso-blu, ma anche una sorta di rivincita dopo il campionato 2013-2014 nel quale i Lucani ebbero la meglio sulla squadra all'epoca allenata da Papagni, nonostante la sconfitta dello Iacovone per 1-0, sporcata da quel tentativo di Combine, poi punito tardivamente dagli organi federali. A sei giorni dal match è facilmente pronosticabile vedere qualche nuovo innesto tra gli Ionici, che comunque hanno già messo in mostra una buona rosa contro il Melfi. Nelle scorse ore sono arrivati in prova il difensore Scuola Juventus Simone Napoli e Andrea Casiraghi, attaccante a quest'ultimo di 19 anni come il suo papà Pierluigi, bomber di Lazio e Juve negli anni 90 ed ex CT dell'Under 21. Per il ruolo di playmaker in mezzo al campo si fa il nome di Fabrizio Losicco, ex Lecce.